All'ultimo respiro il Monticelli agguanta il pari grazie a Capitanzosi, sfidando tra le mure amiche del Del Duca un Chieti padrone del campo per buona parte della gara. Il Monticelli non vince dal 10 gennaio e reduce da tre pareggi consecutivi. Il Chieti dopo la sconfitta col campo basso nella gara autogestita ha conquistato un pareggio e una vittoria sotto la guida di Marino. All'ottavo Petrucce, a ridosso della banderina, passa al centro una palla insidiosa che mette in apprezzione l'estremo ospite Romaniello. Al quindicesimo risponde il Chieti con la doppia conclusione di Comini prima, ribatte Mecca e ricucci poi da buona posizione, ma Mecca è attento. Il Chieti alza il proprio baricentro col passare dei minuti, al ventisettesimo ancora Comini, devastante sulla destra, la mette al centro, smanaccia Mecca e Petrucci in qualche modo la spazza via. Due giri di lancette e Dos Santos sgomita con un avversario e si ritaglia lo spazio per un tiro che si trasforma in un assist. Per nessuno però. Ancora Chieti al 34esimo con Fiore che tenta la conclusione. È bravo Mecca ad alzarla quanto basta sopra la traversa. Nel momento migliore del Chieti potrebbe arrivare la beffa, ma Figliaggi viene murato dai centrali proprio sul più bello. Al 41esimo è Comini ad alzarla troppo da buona posizione su un bell'invito di ricucci. Al minuto 43 è Sbardella che fa il miracolo ancora su Figliaggi che si trova tu per tu con Romaniello dopo il filtrante di Margarita. Allo scadere passa il Chieti con Dos Santos, abile a battere Mecca con un gran tiro dalla distanza. Al quarto della ripresa il pareggio del Monticelli su angolo di Petrucci. Svetta più alto di tutti i sosi che di testa batte Romaniello. Risponde il Chieti. Al settimo conclusione di Fiore, Mecca para a terra. Al diciottesimo esce Margarita, entra Galli. Al ventesimo buon tiro di Fiore, ma finisce lì. Al venticinquesimo ghiottissima occasione per il Monticelli con il colpo di testa di Alievic, ottimamente imbeccato da Petrucci. Decisivo l'intervento del numero uno ospite sulla ribattuta arriva Galli che prende l'esterno della rete. Il Chieti torna avanti al ventisettesimo con Adamoli, dormita generale della difesa del Monticelli e alla fine la mette di tacco il centrale difensivo Neroverde. Al quarantacinquesimo, Filiaggi si divora il pari. Bravo Giosuè a servirlo in profondità e solo davanti alla porta va al tiro, ma la palla si stampa sulla traversa. Quando il Chieti già assaporava i tre punti, arriva il pareggio del Monticelli, ancora con capitanzosi e ancora di testa. Sale l'urlo liberatorio dei tifosi di casa, finisce due a due, applausi per tutti.